Non so se questa sarà l'ultima volta in cui prendo parola in consiglio comunale. Aveva esordito così l'ormai ex assessore di Sernia Francesca Scarabeo in sede dell'assise pubblica delle scorse ore. Se lo aspettava era nell'aria e ora la conferma ufficiale. Il sindaco Piero Castrataro ha deciso di far fuori dalla giunta la senologa Isernina dopo che lei stessa aveva deciso di riconsegnare le sue deleghe alla sanità. Non sono stati giorni facili, al di là della questione amministrativa nel tempo si costruisce anche un rapporto umano con gli assessori, ha commentato il primo cittadino. La scelta di Castrataro arriva dopo una lunga riflessione con la sua maggioranza. Quello che mi rattrista di più è che nelle dichiarazioni della Scarabeo ci sia totale mancanza di fiducia nei miei confronti. Sono veramente dispiaciuto. Ringrazio la dottoressa Scarabeo e so che continuerà quella battaglia per la sanità che ha sempre fatto e noi la continueremo. Dietro la scelta della Scarabeo di riconsegnare le sue deleghe è la denuncia dell'impossibilità di lavorare in modo libero e senza condizionamenti. L'ex assessore aveva parlato di sgambetti continui e di scarso interesse della maggioranza nell'affrontare problemi reali per la città di Isernia. Accuse che Castrataro ha respinto fermamente. Nel momento in cui si fanno delle insinuazioni è giusto che si diano delle prove di un eventuale sgambetto oppure ostacolo che il sindaco può rappresentare. Io dico che se lavoriamo assieme per un obiettivo lo dobbiamo fare confrontandoci. È mancato il confronto. Al tempo stesso in una giunta non ci può essere sfiducia tra il sindaco e gli assessori e quindi è la naturale conseguenza di quello che è successo. La Scarabbeo doveva frequentare di più i palazzi e gli uffici comunali perché c'è talmente tanto da fare in questo posto che il fare avrebbe portato via i sospetti. Il sindaco ha colto l'occasione per spegnere i fuochi accesi da alcuni consigliari di minoranza che avevano sottolineato che il mal di pancia della Scarabbeo non fosse l'unico presente in maggioranza. La minoranza non può fare altro che cercare di mettere dei dubbi sull'operato sui rapporti che ci sono in giunta. È normale che sia così. Quindi nessun altro mal di pancia? Assolutamente no. Ci sono confronti normali, è normale che ci siano e poi c'è la sintesi, è quella che è mancata in questo caso. Con l'uscita della Scarabbeo dalla giunta Castrataro promette la parità di genere sarà rispettata. Presto la nomina di un nuovo membro dell'esecutivo che avrà nuove deleghe. Almeno per il momento il primo cittadino ha deciso di tenere per sé le deleghe alla sanità.